Un abbraccio calorosissimo a tutti i ragazzi dell'Interschool, qui mi trovo a Heliot's Head, una spiaggia fantastica che tra un minuto ti farò vedere e in questo video voglio ringraziare tutti coloro che ancora un altro anno hanno deciso come sempre di scegliere sempre il meglio con Progetto Interschool, abbiamo completato assolutamente come ogni anno tutti i campionati col pienone, Serie C partirà tra poco a 14 squadre, una Serie A che da quello che vedo è veramente competitiva al massimo con tantissime squadre, tantissimi giocatori veramente fantastici, sicuramente vi divertirete un sacco, ti faccio vedere nel frattempo un po' dove mi trovo io, in questa splendida spiaggia solitaria dove come vedi non c'è nessuno e questo lo rende ancora più bella, mi sto godendo questi giorni, per ora nell'ultima settimana non ho lavorato perché si attende la raccolta degli avocado, raccoglierò avocado per qualche altro mese in attesa di completare gli 88 giorni e poi nell'ultimo mese spero di girarmi un po' l'Australia come turista, di conservare un po' di soldi per girarmi l'Australia. Ti saluto da questo posto incantevole, mi raccomando come sempre scegli sempre il meglio con Progetto Interschool, ci vediamo! Grazie!